Vorreste mangiare il pesce ma non sapete mai come prepararlo? Anche io! In casa mia è sempre difficile farlo mangiare a tutti, soprattutto il pesce spada, non so perché. Ma oggi ho deciso di farci le polpette e devo essere onesta, l'ho comprato sul gelato. Ma non sgridatemi, è buonissimo lo stesso. E poi queste polpette sono facilissime perché vi basta tagliarle tutto a pezzettini e buttarle in una ciotola insieme a tutti gli altri ingredienti. E poi fate le polpette, anzi le crocchette, perché gli ho dato una forma un pochino allungata. Poi decidete come cuocerle, potete farle in padella, potete friggerle, potete farle anche al forno. E il segreto per queste polpette di pesce spada, vi assicuro metteteci la grattata di limone perché è davvero una roba da urlo. Sono buonissime, sono facilissime, vi sentirete a posto con la coscienza perché oggi avete mangiato il pesce ma soprattutto anche oggi, come dico sempre, allacciate il grembiule e provatela anche voi.